Una città, una maglia, un amore, grigi nel cuore. Ogni giovedì ore 21 e 15 su TeleCity1, canale 111 del Digitale Terrestre. Un appuntamento esclusivo con l'Alessandria Calcio. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi e Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it Si chiama Scuola aperta allo sport, il nuovo progetto dedicato alle scuole secondarie di primo grado promosso dal Cogni e dalle federazioni sportive nazionali in collaborazione con il MIUR che coinvolge 100 scuole in tutto il territorio nazionale. Ad Alessandria, presso l'Istituto Staneo, moderatrice del quarto incontro con il campione, è stata Margherita Granbassi, ex fiorettista con all'attivo due bronzi olimpici vinti a Pechino 2008 e diverse medaglie d'argento, affiancata da Vanessa Ferrari, prima ginasta azzurra a conquistare il titolo ad un mondiale di ginastica artistica, vincitrici di ben 34 medaglie d'oro in altre competizioni europee. La giornata di oggi è stata soltanto un piccolo assaggio perché questi ragazzi avranno presto l'opportunità di provare degli sport particolari, saranno proprio i tecnici delle federazioni sportive nazionali ad affiancare i loro professori di educazione fisica in un percorso non soltanto sportivo ma anche valoriale in cui si impareranno veramente moltissime cose. L'accoglienza devo dire è stata favolosa, sono stati molto molto attenti a quello che oggi ci siamo detti e insieme a me c'era una grandissima campionessa di ginnastica Vanessa Ferrari ed è inevitabile che i nostri ricordi vadano a quando avevamo noi l'età di questi ragazzi quando inseguivamo un grande sogno che era quello di diventare delle campionesse sportive e con impegno, con grande passione ce l'abbiamo fatta. Mi ha fatto molto piacere essere qui oggi e spero di aver trasmesso a tutti questi ragazzi la passione per lo sport come anche insegnamento di vita. Scuola aperta allo sport offre un pacchetto di attività totalmente gratuito, prevede tre settimane di sport in orario curricolare, corsi gratuiti per gli studenti relativi a tre sport e un percorso valoriale, campioni di fair play, con la sezione dedicata alla lotta al bullismo e al cyberbullismo. Metti in rete il fair play e il percorso che ha l'obiettivo di diffondere tra i ragazzi la cultura del gioco corretto e prevede anche un approfondimento sui giusti comportamenti da avere sui campi da gioco, così come nella vita online e offline di tutti i giorni. Viene fornito anche un kit di attrezzature sportive e ci sarà anche una festa finale. Nelle scuole partecipanti sono proposta atletica leggera e ginnastica a cui si affianca un terzo sport. Sono 13 le federazioni sportive che partecipano insieme al Comitato Italiano Paralimpico per favorire l'inclusione nel progetto dei ragazzi con disabilità. A supporto dei docenti nell'attività e nella diffusione del percorso valoriale, ogni scuola identifica un team di studenti, gli Young Ambassador, con il compito di stimolare la partecipazione delle classi ad un contest ad premi. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi e Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it Il meteo, in collaborazione con Aria, acqua, vento, freddo. Lascia fuori le intemperie e i malintenzionati. Proteggi la tua casa con gli infissi di gollo a seramenti. Aria, acqua, vento. Gollo seramenti Produzione e vendita a finestre in PVC Legno, alluminio, persiane in alluminio e blindate E per tutto il 2018 ti garantiamo un risparmio del 65%. Vuoi sapere come? 0143 88 29 13